Bene, oggi parliamo di Calipso e Odisseo. Siamo nel quinto libro dell'Odissea. È appena terminata la telemachia, cioè quella parte dedicata al figlio di Ulisse, telemaco, che all'inizio del poema è, diciamo, seduto, è disarmato di fronte all'invadenza dei proci. Ma nel corso di questi quattro libri, grazie all'intervento della Dea Atena, riprenderà una dimensione sicura di se stesso, riprenderà i suoi tratti adulti, abbandonando gli atteggiamenti infantili. Si scoprirà infatti essere figlio di suo padre, cioè avere in sé quelle risorse che gli sembravano mancare essendo suo padre assente. Ma siamo arrivati al quinto libro dell'Odissea e di Ulisse in presenza, a cui è dedicato l'intero poema, non c'è ancora stata traccia. Ne abbiamo solo sentito parlare nell'assenza che sperimenta telemaco a Itaca. Lo abbiamo sentito descrivere dai racconti che ne fanno Menelao e Nestore a telemaco e abbiamo visto che nel volto, negli atti e nelle parole di telemaco ci sono tracce di Ulisse. Elena a casa di Menelao riconosce in telemaco il figlio di Ulisse, ne riconosce i tratti. Quindi fino ad ora Ulisse è stato assente fisicamente ma presente in altri modi. Nel quinto libro dell'Odissea invece incontriamo finalmente Ulisse e questa è la prima cosa da notare. Come lo incontriamo? Piangente. Piangente su una spiaggia, sulla spiaggia dell'isola di Calipso in solitudine che piange perché desidera tornare in patria, desidera tornare da sua moglie, desidera tornare ed essere di nuovo re, marito e padre. Ma è prigioniero di Calipso. Prigioniero in quale condizione? In una condizione straordinaria perché Calipso è una ninfa, una dea bellissima che lo ricolma di doni, di amore, di seduzione in un'isola straordinaria e quindi è una strana prigionia, è una prigionia che non viene chiarito se sia una prigionia che Ulisse in qualche modo accetta, di cui in qualche modo è complice perché Calipso non sembra trattenerlo con catene, con imposizioni. Ulisse è lì da sette anni. Si è svolto il concilio tra gli dèi. Atena ancora una volta ha chiesto a Giove, a Zeus, di intercedere per Ulisse e gli chiede di farlo tornare a casa. Allora Giove che ovviamente vuole il ritorno di Ulisse perché deve custodire il fato e il fato vuole che Ulisse torni a casa, invia il suo messaggero sull'isola di Calipso. Il messaggero è Hermes, Hermete, il dio che con i suoi piedi alati, calzari d'oro alati, mette in comunicazione il mondo degli dèi con il mondo degli uomini. E quindi Hermete scende volando sul mare con le sue ali, con i suoi calzari alati e arriva fino all'isola di Calipso. E quindi la prima scena è la descrizione di quest'isola, l'isola della seduzione. Rileggerete voi alla pagina del libro la descrizione di questa grotta che si trova in quest'isola e qui noterete come la prima forma di seduzione riguardi proprio i cinque sensi. Nella descrizione che Omero fa dell'isola sono attivati tutti i nostri sensi. La lettura, la lettura tramite l'immaginazione attiva in noi tutti i sensi. L'olfatto, c'è odore, la vista chiaramente, il tatto perché vengono descritte, le tessiture, la finezza di tutta la vegetazione, l'udito perché abbiamo questi suoni d'acqua, abbiamo il suono di queste sorgenti che vanno in tutte le direzioni. Abbiamo, per quanto riguarda il tatto, dicevamo prima, morbidi prati, fioriti morbidi. Ecco, ritroviamo, ritrovate voi, sottolineando, nella descrizione della spelonca e della grotta di Calypso, tutti questi cinque sensi che vengono attivati. Perché la seduzione, che cos'è? La seduzione è proprio questa sorta di attrazione che è tanto più forte quanto più sensi, quanti più sensi, sono coinvolti e stimolati. Ecco, l'isola di Calypso è in grado di stimolare tutti i sensi dell'uomo e quindi di esercitare una grande seduzione. E Calypso ovviamente è il centro di questo mondo seduttivo. E Calypso seduce con la sua bellezza, chiara tra le idee, questa formula fissa che descrive la sua bellezza, il suo essere straordinaria anche tra le idee, con i suoi riccioli belli, che sono un altro segno tipico di seduzione. E poi con il suo canto, perché Calypso canta e con la voce seduce. Anche lo stesso Ermete che è stupito. Però, dopo che, seconda sequenza, dopo che Ermete è arrivato sull'isola, non trova Ulisse lì, nella spelonca, nella grotta, nella dimora di Calypso, perché, verso 81, non vi trovò il magnanimo Odisseo. Seduto sulla riva, gemeva come sempre, lacerandosi l'animo con lacrime, lamenti e dolori, guardava piangendo il mare infecondo. Ulisse non gode in quel momento di tutto quanto quell'isola ha da offrire, non gode della presenza di Calypso, non gode della bellezza, perché il suo cuore è altrove. Ecco che quindi abbiamo già individuato le due parole di questo passaggio, seduzione e desiderio. L'isola di Calypso è l'isola della seduzione, l'isola del piacere, potremmo definirla, ma il cuore di Ulisse è attratto da qualcosa che è assente, qualcosa che è oltre il mare, che è oltre il presente che lui sta vivendo con Calypso. È la sua isola, la sua casa, la sua terra e la sua moglie. E piange. La prima volta che vediamo Ulisse è in questo gesto che lo rende un eroe, ma un eroe profondamente umano, perché ciò che caratterizza l'animo profondo di ogni essere umano è il desiderio. È il desiderio di quei rapporti che ci fanno essere noi stessi, perché il desiderio di sua moglie Penelope, il desiderio di suo figlio Telemaco e del suo popolo di cui è re, sono quei tre legami, quei tre rapporti che permettono ad Ulisse di essere chi è. E quindi il suo animo è lacerato. Lacerato vuol dire diviso, spezzato. Il nostro animo è diviso quando non siamo nel legame con chi ci fa essere chi siamo. E quindi nonostante tutta la seduzione, Ulisse non è se stesso. Desidera tornare, ma sono sette anni che non può, perché è in qualche modo prigioniero di quest'isola. E Hermes porta il comando, l'ordine, l'ordine da parte degli dèi. Ulisse deve partire, non può più rimanere. Allora Calipso comunica questa decisione a Ulisse, ma qui c'è l'ultimo tentativo di seduzione, perché Calipso prova a rinnovare quel fascino straordinario che lo trattiene. E con il suo discorso lo trova, lo mangiano e poi Calipso rivolge a Ulisse le sue tentazioni. E gli dice divino figlio di Laerte, Odisseo pieno di astuzie, così ora vuoi andartene a casa subito nella cara terra dei padri. Colpisce questo subito, no? Sono sette anni che lì evidentemente avrà voluto dire rimane ancora un po'. Partirai, va bene, ma non ora, lo sta già tentando, no? Rimanda di poco, sì potrei partire, ma vuoi partire subito? E gli augura la felicità. E tu sei felice comunque. E poi arriva il tentativo di seduzione. Ma se tu nella mente sapessi quante pene ti è destino patire prima di giungere in patria, qui resteresti con me a custodire questa dimora. E quindi qual è la prima seduzione? L'assenza di fatica. La prima grande seduzione che rimette davanti agli occhi di Ulisse per convincerlo a rimanere è questo. Ma perché faticare? Devi affrontare il mare. Io lo so, gli dèi hanno previsto che non arriverai subito a Itaca. Dovrai patire ancora. Ma perché faticare? Stai qui con me. Stai qui con me a custodire questa dimora. Senza fatica. Il primo tentativo di seduzione è quello di prospettare a Ulisse una vita senza fatica. Secondo, e saresti immortale. La seconda seduzione che offre Calipso a Odisseo è l'immortalità. Chi non desidera l'immortalità? Benché voglioso di vedere tua moglie che tu ogni giorno desiderai. Rinuncia, rinuncia a tua moglie per qualcosa di più grande. L'assenza di fatica e l'immortalità. E poi aggiunge, desideri tua moglie eppure mi vanto di non essere inferiore a lei. E quindi qui dice, e oltretutto, terzo, avresti me, che sono una dea, certamente, e non una mortale. E quindi il sogno di una felicità, di un piacere erotico, amoroso, di un livello che nessuna mortale potrebbe garantire. E qui risponde Ulisse, lo scaltro Ulisse, il politropos Ulisse, dalla mente aperta. Ha capito che nelle parole di Calipso si cera l'inganno. L'inganno della seduzione, perché la seduzione è un inganno, è un'apparente felicità, è un'apparente bellezza, è un'apparente soddisfazione dei desideri, ma che non li compie veramente fino in fondo. Perché né l'assenza di fatica, né l'immortalità, sono ciò che riempie l'animo lacerato di Ulisse. Dea possente. Infatti, ecco, dice l'astuto Ulisse, risponde astuto, ha capito che c'è un inganno nelle sue parole. Dea possente, non ti adirare per questo con me. Lo so bene anche io, che la saggia Penelope a vederla è inferiore a te per beltà e statura. Lo so anch'io che mia moglie non può reggere il paragone con te. Infatti, lei è mortale. E tu, immortale e senza vecchiaia. Ma anche così, desidero e voglio ogni giorno giungere a casa e vedere il Dio del Ritorno. Ma tu hai travisato il mio desiderio. Non è desiderio di immortalità che ho. Ho il desiderio di quel legame che ricompone la lacerazione del mio animo. Perché io sono i miei legami. E questo è il desiderio più profondo che ho. Non quello di un legame apparente, di un legame superficiale come quello che ho con te. E poi la seconda obiezione è quella sulla fatica. E se un Dio mi fa naufragare sul mare scuro come vino, saprò sopportare. Perché ho un animo paziente nel petto. Ancora una volta, vedete, l'animo paziente nel petto. L'animo lacerato può sopportare altre lacerazioni per ricongiungersi con ciò che vince la lacerazione. Sventure ne ho patite tante e tante sofferte tra le onde di inguerra. Sia con esse anche questa. Ulisse si dimostra convinto che non ci sia fatica che non si possa affrontare se la meta è ciò che vince la lacerazione del suo animo. Ciò che corrisponde al suo desiderio più profondo. Ecco, in questo brano abbiamo visto la seduzione rappresentata da Calipso e il desiderio. Il desiderio che è rappresentato dal cuore lacerato di Ulisse. Solo alcuni oggetti possono vincere la lacerazione del cuore e colmare il desiderio. Non tutti. Le seduzioni sono quei piaceri facili, immediati, senza fatica, che in apparenza sembrano soddisfare il desiderio, ma che in realtà lasciano la lacerazione integra. E per questo Ulisse abbandonerà la stupenda Calipso e la sua isola pur di tornare nella sua mortale Itaca con la sua normale moglie Penelope e dal suo popolo.